Ciao a tutti, oggi vi parlerò di Lanzarote e della programmazione che troverete a breve tutta caricata per l'estate 2024 e parte in realtà già della programmazione troverete anche per l'inverno, già pronta per l'inverno 24-25, quindi fino al 30 aprile 2025. Ma andiamo con ordine, sicuramente a Lanzarote abbiamo una programmazione molto variegata con strutture come potete vedere, molte strutture family, quindi particolarmente adatte alle famiglie, strutture deluxe, quindi strutture di un ottimo livello anche per clientela esigente o molto esigente e più in generale anche prodotti molto rinomati sul mercato italiano che hanno fatto la fortuna della programmazione qui a Lanzarote. Come potete vedere dalla cartina anche ci siamo in particolare a Puerto del Carmen e a Playa Blanca, sono i due poli più importanti dove si concentra la programmazione, ma abbiamo anche una chicca da Rassife, il capoluogo e qualcosina a Costa Teghise. Naturalmente potete impacchettare tutto con comodi voli di linea e low cost che vi permettono collegamenti più giorni a settimana ma soprattutto da tanti aeroporti e quindi con una facilità e una frequenza di collegamento decisamente interessante. Come vi dicevo i due poli principali sono Playa Blanca e Puerto del Carmen. Qui a Playa Blanca, particolarmente amata dagli italiani, si apre il suo ambiente nella Marina Rubicon, nel centro, nel porto, per le passeggiate, ci sono ristorantini localini che sono molto in linea con quello che è il gusto italiano, ma soprattutto perché qui si trovano le famosissime Playa de Papagaios, le spiagge forse più famose di Lanzarote, contraddistinte da questi paesaggi che spaziano dal lunare al marziano nei colori e nelle forme, quindi sicuramente questa è la sua grande fortuna. Qui in questa località abbiamo tre proposte, il Mirador Papagaio, forse la struttura più vicina a queste spiagge, neanche poco più di due chilometri troviamo la prima delle sette spiagge di Papagaio, noi ci concentriamo nella sezione family, poi però i clienti hanno accesso anche all'altra sezione hotel molto elegante, quattro stelle, moderno e di design. Parlando di hotel moderni, naturalmente non poteva mancare il neonato Barceló Playa Blanca, inaugurato nel dicembre 2023, proprio a fine dicembre 2023, quindi nuovissimo, un hotel incredibile, quattro stelle ma che ne varrebbe tranquillamente cinque, con una reception imponente, una piscina quasi infiniti vista mare, enorme, camere suite impressionanti, quindi tantissimi ristoranti, ristoranti alla carte raffinatissimi, quindi un prodotto veramente per il cliente super esigente. E poi invece per contro abbiamo una struttura sicuramente molto molto semplice, con un rapporto qualità prezzo impressionante, con un prezzo tutto incluso, molto molto accattivante, ideale anche per famiglie perché ha camere family e tanti servizi per i più piccoli e con una posizione molto privilegiata perché ha vista mare sulla passeggiata che poi conduce alla Marina Rubicon e alle prime spiaggette di Playa Blanca, quindi comunque una posizione molto interessante. Ci spostiamo poi invece a Puerto del Carmen, a Puerto del Carmen troviamo quelli che sono stati i best seller negli ultimi due anni, sicuramente indiscusso il Vixal Antonio, un quattro stelle incredibile, con un rapporto qualità prezzo eccezionale, prima linea sulla spiaggia dello Sposillos, sempre allo Sposillos troviamo famosissimo il Relaxia Olivina, con un passato di club, quindi molto avvezzo al cliente italiano, della stessa catena il Lanza Playa che per contro è più vicino al centro di Puerto del Carmen e quindi magari più indicato magari per una clientela che cerca un pochino più di divertimento e per i giovani o per chi comunque cerca una soluzione comoda con un prezzo molto interessante in quasi praticamente in pieno centro a Puerto del Carmen, quindi nel cuore un pochino più divertente di Puerto del Carmen, gli appartamenti Los Ibiscos. Tra le novità sicuramente segnaliamo a Puerto del Carmen il Lava Beach, un 5 stelle impressionante sulla spiaggia di Matagorda, una spiaggia immensa che poi prosegue e si collega più in là, qualche chilometro più in là con quella dello Sposillos, l'hotel Sorgios tra l'altro sul lungomare che collega per chilometri tutta Puerto del Carmen da Matagorda appunto fino al centro, 5 stelle incredibile con lezioni di yoga, tai chi, ambienti raffinatissimi, una posizione privilegiatissima, camere modernissime, insomma veramente un prodotto da consigliare a occhi chiusi. Come vi dicevo poi qualcosina anche a Costa Teghise, una chicca ad Arresife, la chicca dell'Arresife, parliamo dell'Arresife Granotelo, un 5 stelle direttamente sulla spiaggia cittadina, una spiaggia cittadina molto bella, il capoluogo molto frequentato anche dagli stessi abitanti dell'isola, quindi poi non così turistico come altre destinazioni, come magari invece Costa Teghise, dove comunque troviamo due strutture particolarmente adatte per le famiglie, l'ACDS Suite Lanzarote e il Barceló Lanzarote Active Resort, tutte e due veramente prodotti per famiglie incredibili e il Barceló anche un prodotto veramente per un cliente super esigente perché nonostante abbia 4 stelle ne varrebbe anche qui tranquillamente 5 e a tanti di quei servizi, ristoranti e ambienti curati e raffinati che sicuramente ci sentiamo di consigliarlo anche ad una clientela particolarmente esigente. Non mi resta quindi che ringraziarvi e aspettarvi tutti a Lanzarote.